ciao perché il ciao dobbiamo dirlo pronti via non c'è Vlaovic non c'è Milik c'è chiesa che sta facendo gli straordinari e c'è Moise Ken che rientra da un infortunio da un fastidio non proprio il miglior panorama la miglior prospettiva possibile per affrontare questa partita per me molto complicata contro l'Atalanta non proprio però bisogna ovviamente fare di necessità virtù capire che durante un campionato questa è la prassi sono cose che succedono la Juventus ha una rosa secondo me molto lunga per quello che sono le competizioni che andrà ad affrontare perché la Juventus ha 23 24 giocatori per giocare soltanto la serie A più la Coppa Italia più gli aggregati da primavera next gen e quindi dobbiamo fare assolutamente di necessità virtù dall'altra parte vi dico tosta tosta maggior ragione questa partita in questo momento guardando anche un pochettino quello che è il calendario che è il discorso che facevo ieri e allora Allegri dice di solito con l'Atalanta sono partite combattute sono in un buon momento non hanno ancora perso né preso gol in casa bisogna affrontare la partita nel migliore dei modi con attenzione e soprattutto tenendo un buon ritmo allora Allegri va subito al punto se con l'Atalanta non tiene un buon ritmo perdi sempre o comunque non vinci e non vincere non è un gran risultato in questo momento è ovvio che perdere peggio però sei lì guardi la classifica che non conta niente oggi però per mantenere la bella anche domani bisogna vincere cioè la Juventus deve ricominciare a pensare che le partite vanno vinte perché negli ultimi due anni vi ha ragionato troppo o comunque si è arrivati a giustificare troppo dei pareggi che dovevano essere vittorie perché se poi arrivi 10 12 15 punti dalle altre allora potrei star zitto perché se i pareggi vanno bene vuol dire che ogni volta sono due punti persi domani è uno scontroietto difficile importante senza dei giocatori chiave con un attacco che è la premessa che vi faccio non è messo bene ma se non iniziamo a essere veramente concentrati secondo me allegra fatto un buon focus e cioè bisogna tenere un buon ritmo si perde o comunque non si vince ma sicuramente più che altro si rischia di perdere anche il lecce non aveva mai preso gol nel secondo tempo anche il lecce non aveva mai perso quindi abbiamo dimostrato che si possono sfatare queste statistiche del momento temporali ok a tempo determinato in questo momento specifico della serie a perché si sono giocate troppo poche partite poi sono dati che è giusto prendere in considerazione per me ed è giusto che l'allenatore li mette in evidenza in questo momento guardare la classifica è poco importante ma rimanere nelle prime quattro ti fa crescere l'autostima e lavorare tranquillo noi dobbiamo continuare a lavorare sapendo che dobbiamo arrivare nelle prime quattro con il desiderio di fare grandissime cose la squadra sta crescendo per me anche fisicamente ci sono i vari rabbiò guia stesso che stanno giocando e cambiando livello di motore le favorite per me non servono a niente non c'è un'equazione matematica che dice che chi gioca la champions è favorito per il campionato lo dimostra in numeri delle ultime annate io qualche settimana fa vi ho detto per me allegri non si fida di questa squadra non si fida di quello che è il team che gli è stato messo a disposizione però nelle ultime due conferenze stampa io sento che qualcosa nella comunicazione di allegri è cambiato perché si era partiti da semplicemente parlare quarto posto e qualificazione champions invece nell'ultima conferenza quella di lecce ha detto che alla juve non ci si può porre dei limiti e che bisogna sempre pensare all'obiettivo grande e oggi per ben due volte ha nominato quel desiderio che deve esserci di fare grandissime cose io non so se è una valutazione sua dopo aver visto che magari anche le altre squadre hanno difficoltà e che quindi il campionato non è così impossibile come magari pensava all'inizio o se gli è stata fatta una richiesta e cioè mister la comunicazione non può essere che la juventus debba arrivare al quarto posto leggevo una statistica adesso non so se è vera andrò a guardare a confermare poi vi farò sapere nel prossimo video però una statistica che diceva che mai nella storia della juventus senza giocare le coppie la juventus è rimasta fuori dalle coppie cioè senza giocare la champions o competizioni europee fra settimane la juve è arrivata sempre almeno a qualificarsi per la champions quindi fa anche un po strano pensare che l'obiettivo della juve in un anno senza coppe possa essere semplicemente partecipare alle coppie l'anno prossimo perché mai era successa una storia della juve ripeto andrò ad analizzare a verificare questa voce che per me può essere assolutamente vera perché stiamo parlando della juventus e quindi non so se è lo stesso allegri che ha detto ma sai che alla fine campionato che c'è un equilibrio precario non c'è la squadra a massa campionato perché tutte possono inciampare in tutto o se è stato detto mister va bene d'accordo capiamo qual è la linea comunicativa capiamo che non abbiamo la rosa migliore del mondo però parlare quarto posto non può esistere non lo so questo lo lascio al vento sarà il tempo poi a dirci quale sarà la risposta vera l'ho detto tante volte la squadra sta lavorando bene e voglia di fare e migliorare noi tutti i giorni lavoriamo sfruttando il fatto di non fare la champions cercando di mettere dentro i singoli giocatori e alla squadra delle cose in più quando è una squadra con giocatori più giovani o meno esperti deve vedere le cose in modo positivo perché comunque c'è solo margine di crescita da questo punto di vista assolutamente vero domani blauvic non ci sarà per il solito problema alla schiena questa settimana fatto allenamenti oggi aveva particolarmente dolore meglio tenerlo fermo e farlo recuperare in maniera totale per quanto riguarda i rientri check-in è una nota positiva e sta bene ma non ci sarà milic che dopo la partita e dopo gli allenamenti sentiva il polpaccio strano e dato che il polpaccio è delicato abbiamo deciso che è meglio farlo recuperare tutti gli altri saranno a disposizione avremo con noi mancini della next gen sono andato un po vedere tommaso mancini classe 2004 nato il 23 luglio peccato perché il 25 facevo gli anni anch'io potevi diventare il nuovo fenomeno altezza 190 punta centrale che l'anno scorso in primavera ha fatto 12 gol e ha servito 4 assist in 32 presenze quest'anno con la next gen invece quindi in serie c giro ne b ha giocato soltanto quattro partite per un totale di 33 minuti quindi stiamo parlando di un giocatore che si sta approcciando quest'anno al primo anno da professionista e che non è titolare nella next gen quindi non dobbiamo mente caricarlo di chissà quali aspettative poi magari un romantico epilogo domani entra nella disperazione e risolve la partita e fa portare a casa dei punti di vinto sarebbe meraviglioso non dobbiamo dimenticarci che c'è anche il dis e allegri ne ha parlato domani che ne rientra e gioca titolare a metà campo uno tra fagioli e miretti fabio fatto bene a sassuolo insomma ed è entrato bene con lecce sta bene sta crescendo così come sta bene fagioli domani valuterò e deciderò blauvic era a gestire come tutti i giocatori ha superato la pubalgia e ora un dolore alla schiena lo abbiamo portato avanti lui ha stretto i denti ha provato ad esserci ma alla fine domani non ci sarà rugani lo devo valutare ha fatto una buona partita era da tanto che non giocava e contro il lecce ha dovuto uscire perché ha avuto un problema di crampi vedrò domani devo decidere hildiz con fuori mili che blauvic può giocare il next gen ha fatto due buone partite così come uizen entrambi sono giovani e stanno crescendo in maniera costante questo è il punto della situazione sui giocatori della juventus tra chi c'è chi non c'è quelli che rientrano quelli che possono giocare quelli che sono aggregati e quelli che sono i giocatori sempre presenti e poi si passa si cambia focus e si va sull'intervista rilasciata da parte di giuntoli alla repubblica mi sarebbe piaciuto fare un contenuto a parte ma dato che oggi è vigilia e c'era la conferenza stampa ho detto proverò a sorvolarne mi fa piacere che sia stato citato questo articolo perché alcune cose vorrei dirle principalmente voglio dire una cosa subito perché ho visto che già su twitter si era scatenato l'inferno giuntoli non poteva fare altro che dire quelle cose cioè che giuntoli sia il più grande stimatore di allegri o che giuntoli sia il più grande hater di allegri giuntoli non può andare a lasciare l'intervista e dire cose diverse da quelle che ha detto è normale è giusto ed è logico soprattutto che il direttore sportivo della eventus dica quelle robe sull'allenatore non esiste un mondo in cui giuntoli dice una cosa diversa da quella il commento l'opinione di allegri sull'intervista di giuntoli penso che abbia centrato in pieno tutte le cose sulla prestazione perché giuntoli ha detto il tifoso live non può guardare solo il risultato ma anche la prestazione allegri c'è sulla prestazione ci sono partite che giochi bene altre che giochi meno bene e poi ci sono gli avversari per dire con lecce non era semplice vincere non è facile soprattutto nell'equilibrio del campionato italiano abbiamo fatto una partita intelligente non riusciamo a giocare noi e non abbiamo concesso occasioni a lecce quella è un'altra fase della partita che va fatta bene e con il lecce l'abbiamo fatta allora io qua dico un attimino una cosa per me questa non è l'analisi giusta della partita con lecce cioè lo è per un certo punto di vista e cioè non sei riuscito a concedere occasioni a lecce cioè ce l'hai fatta tenerli lontano benissimo e quindi è una cosa super positiva però ragionare per il generale equilibrio del campionato italiano facendo il confronto tra juventus e lecce per me non esiste nel mondo cioè non puoi dire le partite sono difficili perché nel campionato italiano è tutto equilibrato juventus e lecce hanno un disequilibrio una disuguaglianza mostruosa se dobbiamo fare ragionamento sull'equilibrio possiamo farlo su juventus atalanta juventus roma juventus lazio juventus milan juventus napoli juventus inter juventus fiorentina che tra dei picchi come magari possano essere quelli dell'inter o dei semi picchi perché secondo me non si tratta di picchi allucinanti come quelli di milan e napoli o dove magari si è più avanti come lazio fiorentina atalanta però comunque bene o male chi più chi meno siamo lì non c'è un equilibrio perfetto meno male che non è così fantastico però se poi le rose devono essere confrontate juve sessuolo juve bologna juve lecce juve dinese juve empoli ho citato queste perché ci abbiamo già giocato non si può parlare di equilibrio il campionato italiano è in equilibrio sulla parte superiore ma le squadre da primi posti in classifica della parte sinistra non possono essere in equilibrio con le squadre di tutta la parte destra questo credo che sia assolutamente logico dire che con lecce abbiamo fatto una partita intelligente secondo me non è vero per me la juve con lecce ha fatto una partita non sufficiente perché quella da juve non è stata una partita sufficiente perché se ti rimporta 50 volte ma non crea l'occasione vera e propria non è fatto la gran partita la cosa fondamentale secondo me di juventus lecce perché è stata una cosa vitale ed è la cosa per cui sinceramente sono stato più contento e aver portato a casa una vittoria in quel momento lì dopo aver preso quattro gol dal sassuolo contro una squadra che era particolarmente in forma e che non è mai riuscita a tirarti in porta quello per me è stato vitale e fondamentale però dire che è stata una partita intelligente e che nel campionato italiano c'è equilibrio e quindi le partite sono tutte difficili per me non è vero perché lecce non è una squadra che dici wow è pericolosa perché cavolo c'è dell'equilibrio no lecce l'altra sera una squadra pericolosissima non pericolosa perché era in un stato di forma incredibile e lei è beccato in quello stato di forma incredibile l'atalanta non è una squadra in questo momento nello stato di forma fondamentale ma è una squadra che è attaccata a te è uno scontro diretto si affrontano delle squadre di alta classifica in serie a per quella che è la classifica attuale e quindi va presa come deve essere presa cioè uno scontro diretto uno scontro diretto che vale sei punti diavolo domani sei punti sono tanti sei punti sono tanti a fine anno pesano tantissimo è un pareggio pareggio ti limita tanto vincere domani è fondamentale è fondamentale io voglio parlarvi di vincere perché la juve deve riabituarsi a parlare di vincere e non di pareggiare spostare la classifica il punticino no la juve deve ricominciare a parlare di vittorie anche in questi momenti difficili in cui sono fuori dei giocatori importanti davanti la juventus deve ricominciare lì a parlare a pensare di queste cose qui fastidio i fischi no non devono darne sono situazioni vissute come un'opportunità di stimolo per fare meglio quest'anno dobbiamo sapere tutti che se la io avrò l'opportunità di giocare in champions che è un risultato per tutti e dobbiamo essere concentrati su questo parlo di quelli dentro la continassa parlo dei tifosi stessi che possa andarci una grande mano giocare in champions è un palcoscenico diverso che piace a tutti abbiamo avuto uno scontro diretto con la lazio ora abbiamo l'atalanta sono una squadra fisica aggressiva dobbiamo farci trovare pronti poi non è che domani finisce il campionato ma per portare via il risultato serve un'ottima prestazione sotto tutti i punti di vista mi fa piacere che allegri dica queste cose cioè portare via il risultato deve essere il concetto è quello che vi dicevo prima e per farlo serve un'ottima prestazione e come dicevo all'inizio serve tenere alti i ritmi però loro io queste cose le voglio vedere perché se dico che sono giuste perché secondo me sono giustissime l'analisi giusta che fa allegri però io domani la voglio vedere cioè voglio che si vada in campo con i ritmi alti con un'ottima concentrazione facendo un'ottima prestazione per ottenere il risultato massimo che la vittoria io sono d'accordissimo con quello che dice allegri però poi in campo queste cose le voglio vedere bisogna vederle guarda il primo minuto non lo so ma doveva capire che è normale capire anche l'ambiente juve e il calcio italiano in america ha fatto buone cose poi gli allenamenti sono stati diversi così come la pressione ora sta tornando ai livelli di inizio preparazione e di questo sono molto contento più che l'indecisione delle altre dobbiamo prenderci vantaggio noi dando continuità ai risultati il campionato di 38 partite ci saranno momenti difficili come dico sempre dobbiamo andare a velocità di crociera e fare punti utili per andare in champions quello è il nostro obiettivo senza lasciare a parte il desiderio più grande allora mi fa piacere che la conclusione sia questa cioè il desiderio più grande perché se avesse detto dobbiamo fare punti per andare in champions quello è il nostro obiettivo sarei impazzito invece è giustissimo che allegri che dica questa roba qui il desiderio più grande dobbiamo avere il desiderio più grande non dobbiamo questo è giustissimo le devi dire sempre come avevo detto l'altra volta le devi dire sempre mi fa piacere che dica queste cose e poi esatto più che l'indecisione delle altre dobbiamo iniziare a guardare a casa nostra cioè non possiamo sempre basarci su oh che fortuna l'inter è inciampata oh che fortuna il milano è inciampato inciampiamo noi inciampa gli altri però noi dobbiamo guardare noi noi dobbiamo guardare noi e sono contento che lui dica dobbiamo prenderci dei vantaggi dobbiamo dare continuità ai risultati queste sono le parole che voglio sentire è una conferenza stampa breve corta compatta ma secondo me sono venuti fuori tanti temi giusti dal punto di vista comunicativo sono queste le cose giuste ora però palla passa al campo e domani la juventus e allegri dovranno trasformare queste parole che sono state impeccabili in una prestazione di livello per portarsi a casa un risultato importante perché perché quella di domani è già una partita decisiva non fondamentale ma decisiva perché poi a fine anno queste partite pesano e come